Ben trovati da Stefania Cattaneo di Trebimeteo. Previsioni per mercoledì 11 giugno, giornata calda, soleggiata, ideale per chi di voi avrà la fortuna di trovarsi e di poter andare un po' al mare. Però mi raccomando, attenzione alle scottature, anzi potete trovare delle informazioni utili sull'indice UV, quindi per intenderci quello fondamentale nella scelta delle creme solare, quella più adatta a noi, lo potete trovare sul nostro sito trebimeteo.com oppure sulla nostra applicazione per smartphone, Windows Phone o Android, oltre che sul tablet. Insomma, una vasta scelta, però concentriamoci sulla previsione per mercoledì 11 giugno, perché vi dicevo, giornata calda e soleggiata, ad eccezione di qualche blando fenomeno sulle Alpi e sulla dorsale appenninica più meridionale. Quindi partiamo dalle temperature, vediamo insieme valori che sono in aumento, come vedete rimarremo al di sopra anche dei 20 gradi e quindi nelle grandi città si potrebbe anche fare un po' fatica a prendere sonno. Massime anche qui per lo più stabili, quindi clima sempre caldo e affoso, massime tra i 30 e i 35 gradi, leggermente inferiore sulle coste adriatiche. Entriamo nel dettaglio partendo dal nord, nuova giornata quindi all'insegna del bel tempo, eccezione fatta come vi dicevo per alcuni cumuli pomeridiani in sviluppo sulle Alpi, con al più anche qualche isolato fenomeno di poco conto tra la Lombardia ed il Triveneto. Permane tempo stabile e soleggiato anche al centro del nostro stivale, vi segnalo qualche nuvola nelle ore centrali lungo la dorsale appenninica ma comunque senza particolari conseguenze. Si rinnovano condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del mediodione, eccezione fatta però per isolati temporali in sviluppo diurno su Appennino, su anche i ridili a Visciculi, in occasionale sconfinamento sul basso versante tierrenico. Locali annuvolamenti nelle zone interne della Sardegna ma comunque di poco conto, quindi non preoccupatevi, aggiornamenti come vi accennavo su trebimeteo.com Grazie. Grazie.